Ance Arezzo si unisce alla delusione espressa da tante associazioni di categoria in merito alle strette introdotte dal decreto sostegni TER su sconto in fattura e cessione del credito per l'utilizzo del super bonus 110%. È paradossale, dice il presidente Igor Michele Magini, secondo il monitoraggio di Enea e del Ministero della Transizione Ecologica al 31 gennaio, gli investimenti ammessi alla detrazione del super bonus 110% hanno raggiunto 18,3 miliardi di euro in crescita rispetto ai 16,2 miliardi contabilizzati al 31 dicembre scorso con un più 12,9% per un totale di 107.588 asseverazioni. Un segno evidente che la misura è entrata in una fase di grande espansione e si conferma una leva essenziale del processo di miglioramento della qualità edilizia del Paese Italia. Con i cambiamenti introdotti sarà infatti possibile effettuare una sola cessione dei crediti fiscali. L'impatto sulla circolazione dei bonus sarà molto importante e aumenteranno costi e tempi di trasferimento del credito. Inoltre i cessionari diminuiranno la capacità di assorbimento dei bonus e molti intermediari potrebbero decidere di uscire da questo mercato. Voglio aggiungere che il provvedimento inserito nel decreto sostegneter penalizza oltre al settore costruzione numerosi altri comparti ad esso collegati, continua Magini. È necessario che venga garantita più stabilità normativa. Non si può continuamente intervenire modificando le regole, dice Magini. Serve una qualificazione delle imprese, la tracciabilità delle operazioni, altrimenti finiamo solo con il penalizzare le imprese. E i cittadini onesti, conclude.